Dicevo che invece che presentare qualche particolare novità della ricerca, voglio invece presentare una riflessione che pone al centro la soggettività della cultura del lavoro. A partire da un documento recente, il quaderno del cartaio, vergato negli anni 70 del 900, per risalire poi alle tracce antiche di questo saper far carta e tornare alla fine alla nostra attuale sensibilità storiografica. Qualche considerazione insomma sul movimento nel tempo e nello spazio delle conoscenze tecniche che diventano cultura del lavoro. Mi è sembrato questo, se non una fattiva proposta di ricerca, almeno una aspirazione in linea con questa serie molto bella di iniziative di People in Motion e anche stimolante, credo, per la Fondazione Federigoni. Facciamo allora un viaggio veloce nel saper far carta, ma prima di partire un ricordo e un monito di Carlo Poni, anche per ragioni personali, sono stato suo allievo all'Istituto Europeo, ma soprattutto per ragioni scientifiche. I suoi lavori sulla seta credo che siano fondamentali anche per gli studi sulla carta. A di là delle ovvie differenze, molte, davvero molte, sono le analogie. Ecco cosa scriveva. La cultura del lavoro può contribuire ad allargare, ad arricchire la storia della cultura popolare. Uno sguardo più intenso potrebbe anzi suggerire la possibilità di collegare la cultura popolare come lavoro alla cultura popolare così come tradizionalmente definita. Storia dell'immaginario, delle religioni e delle ideologie popolari, delle feste e dei riti annuali e di passaggio. Bisognerebbe insomma esplorare i percorsi che avvicinano rotte per ora lontane, indagando e ripensando i rapporti fra il quotidiano e l'eccezionale, i giorni del lavoro e quelli di festa, il ruolo degli artigiani e lavoratori sul luogo di lavoro e nel processo produttivo, come nelle processioni religiose e nei travestimenti del carnevale. È un passaggio del saggio Misura contro misura, come il filo di seta divenne sottile e rotondo, pubblicato su quaderni storici nel 1981. Sono considerazioni che provengono da un'altra epoca storiografica, ma credo che siano ancora utili per evitare che si verifichi una cesura tra la nostra attuale sensibilità e la precedente generazione di studiosi, un rischio contro il quale non è mai superfluo vaccinarsi. Partiamo allora dal documento più vicino a noi, il cartaio, il quaderno più volte copiato da Silvio Vezzani negli anni 70 del Novecento. Questa è la riproduzione anastatica della copia datata 17 maggio 1980, pubblicata a Pietrabuona di Pescia nel 1999, nel centenario della nascita di questo grande sapiente pratico. Qui vediamo Vezzani al lavoro, altino della cartiera Le Carte dei Magnani a Pietrabuona, in una foto degli anni 40, che sintetizza la fase centrale della produzione del foglio. Vi percorriamo velocemente alcune tappe della diffusione dell'arte di far carta. Forse la prima descrizione sintetica, ma puntuale, dell'arte cartaria è quella in latino di Francesco Maria Grappaldi, stampata per la prima volta a Parma nel 1492. Merita di essere letta per intero. Da noi, oggigiorno, la carta si fabbrica con panni di lino e canapa, vecchi e consumati, tagliati in pezzetti e messi in acqua. Si lasciano macerare per 11 giorni e si sminuzzano finemente in una pila contenente acqua con pestelli ferrati. Aggiuntavi la calce, sono spostati in un'altra pila. Vengono poi posti in tini contenenti acqua ed estratti con forme tuffati nell'acqua. I fogli vengono stretti in una pressa alternati con panni. La carta viene fatta seccare una prima volta in un edificio che è ben aperto e ventilato. Poi viene intinta in una colla ottenuta facendo bollire minuscoli ritagli di pelli che i coiai e i fabbricanti di pergamene destinano a questo uso. Lasciata seccata di nuovo e levigata con vetro è resa perfettamente adatta a ricevere la scrittura e a non lasciare passare l'inchiostro. In questo le carte di Parma rivendicano il primato mentre quelle di Fabriano sono raccomandate rispetto a tutte le altre per il candore. Senza considerare la partigianeria localistica è da notare l'elogio della carta di Fabriano. Elogio peraltro ripetuto qualche decennio più tardi da quel Giovanni Antonio Tagliente come ci dirà oggi pomeriggio appunto Cosè Maria Perez Fernandez. La carta da Fabriano è più laudabile che di nient'altro loco. Ecco, questa ovviamente è la xilografia di Jost Hammann che è fin troppo nota e riprodotta ma qui voglio fare una considerazione sui testi che la accompagnano nelle due coeve edizioni. Il testo tedesco è uscito dalla penna di Hans Sachs il maestro cantore di Norimberga immortalato da Wagner gli otto versi sintetizzano il processo produttivo gli stracci giungono al mulino e vengono ridotti in pesto al quale si aggiunge acqua il foglio appena formato viene deposto sui feltri spremuto sotto la pressa poi viene appeso ad asciugare bianco come la neve. Nella lingua dei dotti invece le spiegazioni tecniche dopo una prima poetica immagine tesso da vecchi panni un tenue papiro mentre il mulino stridente volge i suoi giri lasciano il posto a un parallelo filosofico-moralistico tra la schietta semplicità degli antichi e il costume dei moderni principi. Ecco, è su questa linea del tutto non tecnica che si attesta il sonetto che ho particolarmente caro di Francesco Stelluti fondatore dei lincei. Completamente diverso invece è il contributo a 6-7 centesco che riassumo in questa scheda bibliografica. Dal disegno della cartiera contenuta nel nuovo teatro di macchine ed edifici di Vittorio Zonga nel 1607 ristampato a cura di Carlo Poni nel 1985 all'insegnamento di Kefestein per il figlio del 1766 ai trattati famosissimi di E. Laland Criselini e Desmarè Un'attenzione particolare va riservata ai frutti di Albaro di Giovanni Domenico Peri del 1651 La descrizione del modello di cartiera genovese al culmine del successo europeo è veramente notevole Sottolino tre passaggi chiave la cartiera come abitazione del maestro li putti piccoli di 8 in 10 anni che staccano i fogli col soffio e con molta abilità e prestezza la consistente presenza della mano d'opera femminile Nella manifattura della carta quindi Peri ce lo certifica lavora l'intera famiglia la famiglia spesso vive nell'edificio della cartiera le migrazioni singole o familiari sono molto frequenti Per la diffusione delle tecniche rimane valido ovviamente l'insegnamento di Carlo Cipolla del 1972 le tecniche viaggiano con gli uomini sono un prodotto delle migrazioni della diffusione del capitale umano migrazioni che hanno lasciato traccia nelle canzoni dei cartai francesi e purtroppo per i cartai dei vetrai francesi per i cartai invece non possediamo testimonianze così dirette come quelle che fornisce il diario del vetraio parigino Menetra curato da Daniel Roche nel 1982 è uscito in italiano dieci anni più tardi il libro di Dad Hunter che compie oltre 70 anni non affronta i temi della cultura del lavoro e tuttavia rimane una sorta di bibbia per gli storici della carta ancora validissimo per gli aspetti tecnici e per l'approccio globale si deve allo studio di Ivo Mattozzi del 1975 l'avvio in Italia di una stagione di ricerche sulla manifattura della carta con un approccio complessivo e storiograficamente innovativo l'attenzione agli aspetti tecnici ma anche ai rapporti di produzione alla divisione di genere del lavoro e al mercato internazionale sono al centro del volume di Maglio Calegari del 1986 sul modello genovese il libro il libro che il mio libro che era dedicato al caso toscano peraltro variegato e che lo vedeva come un anello tra il modello di Fabriano che si indebolisce nel corso del 500 nel passaggio dal far carta medievale a quello dell'età moderna e invece il modello ligure che si afferma tra il 5 e il 600 però voglio sottolineare qui la prima parte che è quella che è attinente al ragionamento che voglio fare dove si faceva il punto sui cicli produttivi l'occupazione i rapporti di produzione e si dedicava un capitolo quello del cartario la famiglia la comunità all'impostazione appunto di tematiche che sono ancora tutte da approfondire non sto a soffermarmi sul contributo enorme dedicato proprio perché non ce n'è bisogno dato dai convegni di Fabriano e dalle pubblicazioni della fondazione Fedrigoni ecco grossolanamente tracciato il percorso storiografico torniamo al documento al centro del mio intervento l'informazione tecnica che il cartario di Silvio Vezzani ci fornisce rappresenta la conferma dei risultati che la ricerca storica ha da molto tempo acquisito non è dunque su questo piano che riveste interesse la sua importanza a mio avviso consiste nella cultura del lavoro che esprime la cartiera che Vezzani descrive somiglia in maniera impressionante a quella genovese del Peri a metà seicento e il processo di lavorazione non è differente da quello che descrivono i trattati settecenteschi gli strumenti sono quelli dell'anziclopedia e i loro nominativi con interessanti varianti locali si ritrovano negli inventari delle cartiere toscane da quelle di Colle del Quattrocento a quelle sei settecentesche di Villa Basilica o di Pescia a inizio dell'Ottocento le figure che animano la cartiera sono quelle antiche il lavorente il ponitore il levatore lo studente ai quali si aggiungono le donne nei diversi ruoli di straccina ammagnitore spandente battitore sceglitore a Vezzani stanno molto a cuore i nominativi cioè la nomenclatura di ogni singolo componente dell'attrezzatura della cartiera ecco sarebbe bello almeno in ambito italiano riuscire a ricostruire il lessico dell'arte nelle sue varianti locali e con profondità cronologica attraverso la raccolta e lo studio degli inventari il manuale del cartaio è dunque in primo luogo testimonianza e volontà di trasmissione di un'arte antichissima e del suo lessico ma in questi fogli vergati a mano con la bella grafia di una persona non letterata ma colta c'è molto di più c'è la straordinaria sintesi di un saper fare che viene da lontano di una cultura del lavoro che nessun trattato tecnico potrà mai tramandarci sarebbe molto interessante fare una lettura parallela del cartaio di Vezzani e delle ricordanze di un cartaio di Carlo Magnani i due testi forniscono informazioni del tutto analoghe quando non addirittura identiche è pressoché certo che Silvio Vezzani l'abbia letto anche perché nella seconda edizione del 1979 è nominato nel Colophon come il fabbricatore della carta speciale sulla quale è stampato eppure le due testimonianze sono del tutto differenti da un lato il resoconto di una cultura del lavoro acquisito in una vita intera spesa a far carta dall'altro la trasfigurazione letteraria e poetica non priva del filtro padronale paternalistico e di una visione conservatrice e anche latamente misogina l'antenato prossimo nel tempo e nello spazio della memoria di Vezzani è il regolamento dell'arte della carta all'uso di Toscana redatto attorno nel 1820 le somiglianze esteriori sono notevoli un quadernetto vergato in bella grafia ma gli intenti normativi e prescrittivi del documento del 1800 sempre ne fanno un ibrido tra la teoria dei trattati settecenteschi e la realtà o il dover essere delle cartiere pesciatine all'inizio dell'800 ecco certamente Silvio Vezzani non ha letto il documento sepolto tra le carte dell'archivio di stato di Firenze dove l'ho scovato perché non ne aveva bisogno la sua formazione la formazione del cartaio non è libresca è legata alla trasmissione concreta da maestro a maestro è frutto dell'esperienza collettiva che diventa personale ogni pagina del quaderno del cartaio mostra il saper fare la saggezza dell'esperienza qui posso solo accennare a pochi esempi ecco allora il color vinastro o rossastro dello straccio giunto a perfetta fermentazione ecco la caldaretta del tino perché se no le mani dell'operaio lavorente restano cronchie e paralizzate ecco come si evita la tovaglinatura del foglio e ancora la bollitura sottovelo della colla le finestre dello spanditoio socchiuse a bocca di lupo la lavorazione a fibre magre o grasse il foglio che si ritira in meno se la carta è soppressata più asciutta ma l'aspetto più strepitoso è dato dalla linguatura del foglio il figlio ed erede di Silvio Angiolino Vezzani l'ultimo vero cartaio pesciatino raccontava che quando il padre faceva questa prova della bontà della collatura gli altri cartai lo prendevano in giro gridandogli che fai la mangi bene ecco cosa scriveva 200 anni prima della nascita di Vezzani Giacinto del Vigna da Amsterdam come resoconto della missione di spionaggio industriale svolta per ordine del gran duca Cosimo III una certa prova che fanno di toccare e bagnare con la lingua molle la carta è che quella saliva che vi resta sopra non solamente non inumidisca non che non passi la parte di sotto ma che tampoco penetri punto nel foglio in modo che questo non ne imbeva se si può dire neanche per sogno ecco un saper fare che dall'Olanda di fine 600 ha viaggiato nello spazio fino a Firenze e ora attraversando secoli giunge fino a noi ma ci sono ci sono aspetti e aspetti tutt'altro che secondari che il cartaio non racconta le feste e la dialettica estralavorativa delle famiglie che abitano nella cartiera non sarà facile andare in questa direzione ma forse qualche traccia documentaria potremmo scovarla l'altro tema assente nel quaderno dei Vezzani è quello dell'insalubrità dell'ambiente di lavoro e su questo voglio in chiusura dire qualcosa perché non sarà inutile averlo presente nei nostri studi mi scuso in anticipo per la chiusura poco poetica dell'intervento Bernardino Ramazzini che possiamo considerare il padre della medicina del lavoro nel volume pubblicato in latino nel 1700 si era concentrato sul mestiere di raccoglitore di stracci per la fabbricazione della carta ecco le sue parole dall'edizione in italiano è uno stupore è quasi incredibile quanta puzza ne spiri da quelle pertanto vengono tossenti asmatici senza appetito vertiginosi atteso che non vi è cosa più sporca e più stomachevole di un ammassamento di tutte le sordidezze di uomini di donne di cadaveri talmente che non è meno compassionevole che orrendo spettacolo mirare i carri caricati di tali avanzi di povertà e di miseria umana e velocemente il pulviscolo tossico dello stracciatoio così come ce lo descriveva Melville a metà ottocento nel Tartaro delle vergini l'odore nauseante del marcitoio il rumore continuo notte e giorno dei martelli ferrati delle pile le mani del cartaio per l'intera lunga giornata lavorativa nell'acqua del tino la fatica del torchio il lavoro pesante delle donne nello spanditoio salendo tre piani di scale con il peso della carta ancora bagnata portato sulla testa il pericolo del maglio che batte la carta prima della lisciatura a mano anche questo un compito femminile a sentirlo raccontare perfino dalla penna non letteraria di Vezzani la creazione del foglio di carta a mano ci affascina per i precisi gesti tecnici e per gli aspetti quasi artistici la maestria del cartaio con la forma i movimenti fini delle donne che rifiniscono i fogli ma le giornate in cartiera erano lunghe e faticose l'ambiente era malsano il lavoro duro grazie grazie a tutti